Torna a Cortona la fiera più antica d'Italia. Dal 24 all'8 settembre, infatti, le porte del settecentesco Palazzo Vagnotti si apriranno per ospitare la cinquantasettesima edizione di Cortona Antiquaria. Si tratta della mostra a mercato del settore più antica d'Italia e rappresenta un appuntamento obbligato ed atteso per gli appassionati dell'antico, ma anche un richiamo per i visitatori. A Cortona arriveranno così 30 antiquari provenienti da tutta Italia e dall'estero, che proporranno al pubblico di intenditori e visitatori una serie di opere d'arte di straordinario valore, dalla pittura alla scultura, dagli arredi agli oggetti. Quest'anno, inoltre, è in programma una speciale esposizione collaterale dedicata alle ceramiche di catrosse e fiorall'occhiello della produzione cortonese del Settecento. L'esposizione è frutto di una collaborazione scientifica con Anna Murvaleri, che ha recentemente realizzato uno studio sulla produzione di maioli caduso in Toscana tra il Settecento e l'Ottocento, analizzando da vicino anche l'antica fabbrica cortonese. Assieme a Paola Marri porterà così in mostra circa 50 pezzi esposti con relativi calchi della produzione, ancora oggi conservati a Villa Venuti. Non mancherà infine il premio Cortona Antiquaria, che dal 2001 viene conferito a personaggi che hanno un legame speciale con Cortona. La Commissione quest'anno ha deciso di conferire il prestigioso riconoscimento all'Università della Georgia, presente con i propri progetti didattici in città da ben 50 anni.